Le persone, la maggior parte delle persone, gli artisti eccetera, diciamo ma come mai adesso fai questi affreschi così eccetera? Ma dico io veramente ci ho pensato quasi subito perché poi in realtà io facevo un altro lavoro, facevo le cose molto grafiche, altre cose completamente diverse perché sono stato otto anni, quasi otto anni con la galleria sincron di Armando Nizi che sta a Brescia e sono stato tutti questi anni qua, quasi otto anni. Ora, poi siccome il mio logo, chiamiamolo come volete voi, lo stile, chiamatelo come volete, ho visto che parecce persone lo copiavano, parecce, parecce persone, tant'è vero che volevo fare una mostra addirittura con tutte le cose che ho visto della pubblicità. Poi era un po' troppo complicato, non l'ho più fatta eccetera. Ho avuto la fortuna di incontrare un restauratore che andava dallo zio di mia moglie per fare, ripulire dei quadri, delle cose eccetera e si parlava, lui piaceva il lavoro che facevo io, solamente che mi prendeva in giro, cioè nel senso che diceva, dice no, ma tu adoperi i colori acrilici, ma non va bene, ci vuole un altro tipo di materiale. Allora mi ha detto, dice, tu dovresti prendere quello che si fa per i restauri, cioè con le terre, questa polvere che poi si chiama, è molto volatile, quasi come una cipria, ecco, molto volatile. E piano piano ho cominciato, però poi in realtà ho capito che dovevo andare al suo laboratorio perché da solo non ci riuscivo, ecco, questo sicuramente. Poi piano piano, girando, cercavo, cercavo delle librerie e ho trovato un libro interessante di Cennito Cenniti, che è del mille, dunque, i secoli, mi pare, il quattordicesimo secolo. E allora era pieno di ricette, come facevano i pennelli, le cose, ma veramente interessante. Siccome era, diciamo, come posso dire, fatto a pezzi ben precisi, ho scelto quello che secondo me era più adatto alle mie possibilità. E così ho cominciato un poco, io studio, ho andato lì al laboratorio, eccetera, quindi è un conto fare da solo, e un conto avere un professore. Devo dire che è stato bravo, bravo, veramente bravo questo Francesco. E così ho cominciato piano piano, piano piano a fare, non è che ho cambiato il logo, ho cambiato, ho solamente fatto sempre il geometrico, ma logicamente con i colori, ecco, perché prima i colori erano quasi negati, così mi avevano sempre detto i critici. Tanto è vero che la prima mostra che ho fatto a Roma, che era il 77, che mi ha fatto la presentazione Guido Montana, e mi ha detto, dice, ma, dice, colori così, uno, due, ma il terzo ci vuole una saggezza incredibile. Cioè, ma, e allora mi ha un po' spaventato. E quindi feci sta mostra, in realtà, siccome io adopero solo i colori primari, cioè il blu, il rosso, il giallo, e allora ho mischiato questi colori, e in realtà è diventato quasi nero, nero non era, un testa di moro, ecco, una cosa del genere. E fece questi quadri, lui scelse questi bozzetti, mi ha detto, dice, adesso questo tu li vai come vuoi, tutto quanto, e così cominciai la prima mostra. Questo è stato. Poi dopo, con Ghina, queste cose tecniche, queste cose così, con i colori acrilici, le cose, insomma, non era contento. E così ho cominciato, sono andato poi a studio suo, e col cennito cenniti, lo studio, eccetera, e a un certo momento ho cominciato a fare questo. Ci ho messo un paio d'anni prima di essere sicuro, e ho fatto una mostra, una prima mostra, che era nel 1986, e l'ho fatta a Viterbo, ecco, nella chiesa di Santa Maria della Salute. E devo dire che sono stato anche fortunato, perché coincideva con la festa di Santa Rosa. Quindi c'è questo, il campanile che cammina, la macchina di Santa Rosa è veramente straordinaria, è eccezionale, è veramente incredibile, con questi facchini, che ci sono centinaia di facchini che portano questa macchina, e che gira tutto il paese, è veramente impressionante. E questo, non solo questo che è del buon auspicio, ma soprattutto la mostra ha avuto successo inaspettato, perché poi in realtà ero titubante, cose così, invece in realtà è avuto veramente successo. Poi oltretutto ho incontrato un signore che conoscevo, perché lavorava anche alla RAI, un professore di filosofia, che insegnava a Viterbo, e collaborava con la RAI. E allora mi ha detto, dice, che fai così? Ho detto, adesso ho questa mostra, questa cosa qua. Dice, ma quando c'è? Eh, dico, non lo so, adesso sto preparando. E allora lui mi ha detto, dice, ma perché non facciamo un'intervista così, per non dimenticare? Ci siamo incontrati, facciamo così? E così è stata fatta. E è diventata una cosa veramente bella, che poi in mezzo ci sono stati degli aneddoti, delle cose che sono successe durante la MOV, quando facevo, quando stavo ancora a Brescia. E poi piano piano, piano piano, ho cominciato a fare questo tipo di lavoro. Lavoro che era un po' complesso, cioè nel senso che c'era un intonaco fatto di polvere di marmo e logicamente è connettivo. Poi oltretutto, non erano telai normali di tela, eccetera, eccetera, eccetera. Ma erano fatti di legno, ma soprattutto erano intelati, quindi come facevano anticamente. E piano piano ho cominciato a fare queste cose qui e mi sono appassionato, perché ogni volta che si faceva una mostra era sempre una novità, ma poi ho avuto sempre successo, belle mostre. Io poi ho sempre quasi fatto sempre mostre, non poche cose con i privati, normalmente facevo con i comuni, con i musei, queste cose qua, ma sempre per la gente, per fare, anzi è stato fatto anche un DVD fatto apposta didattico, che io portavo per le scuole. Quindi questo mi ha agevolato molto, proprio per trovare questi spazi, queste cose del comune, eccetera. E poi piano piano, però pensavo sempre, perché era un lavoro abbastanza complesso tecnicamente, e allora pensavo sempre di fare gli affreschi, perché questo libro di Cenniti parlava degli affreschi, e allora dico, ma veramente mezzo lavoro è fatto, perché in realtà è fatto, già c'è questo intonaco fatto, dico cambierebbe poco, e così ho cominciato, cioè ho cominciato quasi mai, perché ci ho provato, però era un po' complicato, perché non si poteva fare un quadro 180 per 180, fatto rapidamente, non è facile. E quindi ci ho pensato un po', e il primo che ho fatto di questi affreschi era nel 2005, un piccolo quadretto, veramente una stupidaggine, perché piccolo, però ero contento. Poi logicamente l'ho lasciato, perché avevo degli impegni con altre mostre, poi avevo un impegno importante, che sono stato a Roma a prendere accordi, eccetera, con l'Enel, perché volevo fare una mostra a Montalto di Castro, dove c'è l'Enel con questa di Alessandro Volta, quindi c'è una bellissima, che poi oltretutto c'è stato anche fatto un DVD con un'intervista di una critica d'arte, addirittura con l'ingegnere Teloni, che è il direttore dell'Enel. Quindi è stato veramente un bel film, è veramente bello, è fatto bello. E questo devo dire che ha avuto successo questa mostra, non tanto come spazio, come... perché c'è... ma a parte il fatto che è bello, perché è pieno di verde, straordinario, si può visitare tutta... come funziona una centrale elettrica, il ricambio d'acqua, veramente molto, molto bello. E... logicamente di gente ce n'era tanta, anche perché essendo un posto, diciamo, che può essere attaccato, e allora bisogna... si entrava con i documenti e logicamente oltretutto è stata aperta la mostra, si è fatta da giugno fino a dicembre. E quindi è un successo, veramente... poi a parte il fatto lo spazio, i quadri grandi, c'erano quadri di tre metri, insomma, comunque un bel posto. Poi due piani, insomma, veramente bello. e questo qui nella parte dove c'era questo DVD abbiamo sentito che sono venuti proprio come persone, perché, ripeto, c'è una carta di identità per entrare e hanno fatto i conti che ci sono state 70-80 mila persone, cioè è una cosa straordinaria per una mostra così. per cui, ecco, come si dice, gli affreschi sono passati sempre in cavalleria. Poi un giorno a Viterbo feci una mostra invitata da come si chiama questa bottega dell'arte. La bottega dell'arte sta a Viterbo nella parte diciamo più bella di Viterbo che è praticamente la parte medievale, molto bello il posto, la bottega dell'arte e feci una specie di affreschi, ecco, diciamo prove di affreschi, tanto è vero che io l'avevo nominato normalmente non come affreschi, così. Ecco, questa è stata anche un'altra mostra che ha avuto successo. Devo dire la verità che la mostra è riuscita bene, benissimo, e da lì visto che questi affreschi che non erano chiamati affreschi e da lì è cominciato a fare. Ho fatto un po' di pausa, un po' di fermo, un po' di riflessione e poi piano piano sto preparando questa mostra che spero che si porta in porto. I quadri li ho già preparati quindi sono pronti. Adesso i collaboratori si stanno dando da fare e vediamo quello che succederà piano piano. Però devo dire questo che l'affresco ha cominciato con i piccoli quadri piccoli perché non ero sicuro di poter fare un lavoro così impegnativo perché molto impegnativo perché bisogna lavorare sul fresco sull'intonaco fresco quindi è un po' complicato. Però allora ho cominciato con i 40x40 poi piano piano ho fatto 50x50 e poi alla fine sono impazzito e ho fatto qualche quadro che veramente qualche quadro diciamo due due quadri della stessa misura quindi 80x90 e devo dire che il primo forse un po' l'entusiasmo poter cosa è fatto è venuto bellissimo e l'altro dico beh voglio fare il compagno e poi in realtà a me scappa veramente da ride ma io questo quadro l'ho fatto quattro volte quattro volte l'ho buttato giù perché siccome io sono frettoloso ecco anche perché volevo fare volevo fare poi i laffreschi perché io non ho mai fatto una correzione sui quadri mai 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 un ritocco mai niente piuttosto cancello tutto butto tutto e ricomincio da capo e così è stato questo ultimo che mi ha fatto veramente dribolare ecco e però insomma ecco sono riuscito a fare questi due grandi adesso aspettiamo quando si aprirà la mostra io adesso sono un po' preso perché ci sono delle cose burocratiche ci sono vari posti da scegliere posti privati posti comunali eccetera questo sceglieranno anche le persone che sono i collaboratori che conoscono bene l'ambiente e quindi cercheremo di fare il meglio che è possibile per questa mostra ecco io l'unica cosa vi inviterò per vedere questi affreschi e speriamo che tutto vada bene e soprattutto che io stia bene perché purtroppo ho passato un brutto devo dire un brutto Natale diciamo l'ultimo dell'anno e ancora sono fuori gioco ecco diciamo non so al cento per cento quindi tutto qua però sto bene adesso ho scritto qualcuno che mi ha chiesto dice come fa io me la cavo c'è proprio scritto maiuscolo me la cavo tutto qua vi saluto vi ringrazio del che vi avete ascoltato e tutto qua vi auguro buona vita e speriamo che la mostra vada bene e ci sarà tanta gente contento e poi dopo chi vivrà vedrà